Eccoci qui, Davide Mottola, Nico Maraglia, siamo qui per presentarvi un progetto in lavorazione, in arredivo, tu non ci basti mai, tu non ci basti mai, cominciate a segnarvi marzo, il giorno non lo diciamo, poi lo teniamo più in là, scusa Nico, ma chi non ci basta mai? Avete capito? Un po' scopriamo questo, ciao! Eccoci qui, no scusami! Vabbè, poi... Nico Maraglia, Davide Mottola! Sto presentando quello sbagliato!